Apriamo allora la nostra seduta di oggi, avvertendo che la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca nell'ambito della proposta di legge sull'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria a firma Brescia e con relatore Rampi, l'audizione informale del dottor Marco Travaglio, che ringrazio per aver accettato di essere qui con noi oggi e a cui do la parola. Io che vi ringrazio per avermi invitato, io immagino di essere qua a nome del giornale che ho cofondato insieme ad alcuni colleghi nel 2009 e che si è portato avanti rispetto alla vostra proposta perché noi praticamente il finanziamento ai giornali l'abbiamo abolito per quanto ci riguardava, quando ancora, peraltro con altri tipi di legislazione rispetto a quella vigente oggi era ancora all'ordine del giorno per quanto riguardava non solo la stampa di partito, di cooperative eccetera, ma la stampa in generale. Posso testimoniare che senza il finanziamento pubblico si lavora meglio, magari chi sta in amministrazione non è dello stesso parere ma per quanto riguarda chi fa il nostro mestiere di giornalisti, sapere che si può contare soltanto sulle proprie forze e per usare uno slogan che ho visto sulla campagna pubblicitaria del sito Mediapart che è molto simile all'esperienza del fatto quotidiano e che dura in Francia dal 2008, gli unici che ci possono comprare sono i nostri elettori. Questo secondo me migliora molto l'indipendenza interna e anche esterna dei giornalisti, della redazione e quindi crea un clima più favorevole a quella che secondo me deve essere la caratteristica principale di un giornale, cioè quella di poter contare soltanto sulla professionalità dei propri organici e quindi sull'apprezzamento dei propri lettori e dei propri abbonati. Io credo che, capisco da un certo punto di vista la necessità che a un certo punto era nata di aiutare con sovvenzioni dirette e indirette la stampa e credo che derivasse e derivi tuttora da una sorta di coda di paglia che ha la classe politica italiana che non ha mai osato mettere mano a norme antitrust, anticoncentrazione, antiaffollamento del mercato pubblicitario per quanto riguarda la televisione. Ricordo pezzi molto interessanti di Giovanni Valentini, che fino a poche settimane fa aveva una rubrica il sabato del villaggio su Repubblica, il quale insisteva nel descrivere a quanto ammonta la quota di investimenti pubblicitari delle aziende negli altri paesi europei sulla carta stampata in rapporto alla televisione e a quanto poco ammonta invece l'investimento pubblicitario delle aziende sulla carta stampata in rapporto alla televisione in Italia, proprio perché in Italia è sempre mancata una normativa che ponesse un tetto all'affollamento pubblicitario televisivo. A parte la RAI che ha il suo tetto fisso, le altre reti possono intasare i loro programmi più o meno quanto gli pare di spot. E questo naturalmente soprattutto con i prezzi molto concorrenziali che ha la pubblicità negli ultimi anni di crisi fa sì che le aziende preferiscano di gran lunga affollare i loro investimenti sul mezzo televisivo anziché sul mezzo della carta stampata e sul mezzo del web. E noi assistiamo veramente a un fenomeno abbastanza preoccupante, cioè la lentezza con la quale la pubblicità, adesso che l'informazione della carta stampata si trasferisce sul web sia in versione digitale a pagamento sia in versione di siti liberi e quindi gratuiti, questo trasferimento non vede alcun tipo di corrispondenza nella transumanza della pubblicità dalla carta al web. E questo secondo me deriva appunto da quel peccato originale che secondo me andrebbe sanato di pari passo con il sanare quest'altra anomalia che è appunto la sovvenzione che io ho sempre considerato un aiuto di Stato a certi tipi di quotidiani e periodici che con i trucchi che ben conosciamo sono riusciti a ottenere milioni e milioni di euro per far sopravvivere testate che il mercato dei lettori non avrebbero mai consentito che sopravvivessero. Questo penso che sia una delle ragioni per cui è utile fare questo discorso, è utile cancellare i finanziamenti che una volta erano addirittura a pioggia, adesso non sono più a pioggia ma sono comunque ancora consistenti, però alzando un po' lo sguardo e cercando di collocare questo fenomeno all'interno di una politica generale che andrebbe rivista tutta e che in questi anni purtroppo per le ragioni che conosciamo, conflitti di interessi eccetera, ha penalizzato molto la carta stampata rispetto a quanto è stata premiata lo strumento televisivo. Così la vedo io. Vedo che sopravvivono e c'è stato molto dibattito a proposito di quelle forme di finanziamento indiretto, occulto come le vogliamo chiamare e cioè l'obbligo per esempio di pubblicare i bandi degli enti pubblici, degli enti locali, degli enti regionali eccetera sui giornali che poi anche quello diciamo che è un'altra violazione della libera concorrenza fra i giornali perché di quei bandi ovviamente beneficiano e di quegli introiti beneficiano i grandi giornali, non certamente i piccoli giornali, quindi anche lì è una forma di finanziamento selettivo che premia alcuni e penalizza altri e quindi costituisce un'altra turbativa del mercato. Come la vedo io il mercato dovrebbe essere assolutamente libero, dovrebbero sopravvivere soltanto i giornali che hanno dei lettori e degli abbonati senza trucchi, senza inganni, senza senza mani invisibili che li sostengono di sotto e da dietro, fermo restando che appunto per liberare veramente il mercato bisognerebbe fare in modo che la pubblicità contribuisca diciamo in linea con il resto d'Europa anche alla carta stampata, mentre invece non credo che esista in Europa un paese dove la carta stampata è stata così penalizzata dalla incapacità di normare gli affollamenti pubblicitari televisivi. La ringrazio, Dottor Travaglio, per la sua testimonianza, anche perché per noi è particolarmente significativa e importante. Lei è il primo di una serie di esperti del settore che noi audiamo e che proprio perché il Fatto Quotidiano ha fatto una scelta di questo genere ci premeva a cominciare con lei. Adesso io vorrei chiedere all'Onorevole Brescia che è il proponente della legge e poi all'Onorevole Rampi che è il relatore se vogliono intervenire e poi aprire un momento la discussione se abbiamo delle domande da rivolgere al Dottor Travaglio. Prego Onorevole Brescia. Grazie Presidente, ringrazio moltissimo il Dottor Travaglio di essere venuto qui a portare una testimonianza importante come quella del Fatto Quotidiano. Io ho già raccontato più volte durante queste audizioni in commissione come questa proposta di legge abbia subito dei mutamenti nel suo percorso già da quando è nata, soltanto come semplice idea di abolizione, come si è cambiata nel tempo e durante queste audizioni in commissione l'idea si è evoluta e si sta raggiungendo un più ampio respiro che guarda come possiamo cambiare tutto il settore, cioè come la politica può mettere mano al settore dell'informazione per raggiungere quelli che sono degli obiettivi che sono cari a tutti, ossia quelli di un reale pluralismo dell'informazione e di un innalzamento quanto mai necessario della qualità dell'informazione nel nostro Paese. Quindi la domanda che vorrei rivolgere al Dottor Travaglio è come immagina che la politica possa intervenire e poi se è possibile un piccolo approfondimento su quella che è stata proprio l'esperienza del Fatto Quotidiano perché a mio modo di vedere può essere emblematica rispetto a come altri giornali potrebbero invertire la propria marcia, cambiare direzione e offrire un servizio qualitativamente più elevato ai cittadini, che è la cosa che ci sta più a cuore. Aspettiamo e sentiamo le varie domande? Sì, a me interessava capire alcune cose sia dal punto di vista concreto che dal punto di vista delle opinioni. Nel senso che intanto vorrei capire nell'esperienza del Fatto Quotidiano se effettivamente il fatto si sostiene solo con le entrate dei lettori o anche con le entrate della pubblicità e quindi la domanda poi che diventa più generale è un po' questa, su cui noi stiamo riflettendo da quando lavoriamo a questa indagine, cioè se l'informazione sia un servizio o un prodotto e quindi a chi risponda rispetto a chi la finanzia, perché mi sembra di intuire dalla sua prima lettura che lei sostiene che un finanziamento pubblico potrebbe portare l'informazione a dipendere di fatto dal potere di quel paese. Io penso però che se una norma è fatta bene, e quindi noi siamo convinti che vada riformato il sistema del finanziamento, se la norma è fatta bene il tipo di supporto che si va a dare non porta un'informazione che dipenda dal potere di quel momento, ma dovrebbe avere delle caratteristiche di oggettività e quindi sostenere tutta una serie di voci plurali, soprattutto piccole, soprattutto indipendenti che nel libero mercato invece potrebbero non farcela. Come però la preoccupazione è che il finanziamento pubblico porti l'informazione a dipendere dal potere. L'idea è che ci sia un libero mercato dell'informazione non porta l'informazione a dipendere da quelle entrate economiche che la sostengono economicamente, per cui ad esempio da grandi o piccoli potentati economici, dico grandi o piccoli perché molto spesso parliamo magari di piccoli giornali a livello locale che, diciamo, stando alle regole del finanziamento potrebbero avere la possibilità di essere completamente indipendenti. Vivendo esclusivamente di un'entrata ad esempio pubblicitaria potrebbero rispondere agli interessi economici di un soggetto locale che è disposto a fare pubblicità su quel locale, su quel giornale, su quel quotidiano, ma in cambio vuole una particolare attenzione alle informazioni, eccetera. Mi domando, su un piano urbanistico, un giornale che vive in maniera significativa delle pubblicità di un gruppo edilizio che va a costruire in quella realtà, avrà la possibilità e la forza di essere indipendente nel giudicare quel piano urbanistico, quel provvedimento che favorisce un operatore rispetto a un altro. Questa è un po' la riflessione di fondo che ci facciamo che a me porta a questa grande domanda, cioè se l'informazione è un prodotto, è un servizio e quindi se è un servizio, come altri servizi, penso a quelli sanitari, sociali, bibliotecari, a quelli culturali, non debba essere in qualche modo garantito grazie alle tasse che i cittadini pagano e che servono a garantire dei servizi. E la seconda domanda è questa che è collegata. Se noi facciamo vivere l'informazione esclusivamente del ritorno di mercato che ha, perché di questo stiamo parlando, non c'è il rischio che ciò che non va di moda, che non interessa in quel momento, non possa più avere voce pur sapendo che a volte nella storia le cose che non andavano di moda dicevano qualche cosa di molto importante e che però magari in quel momento non tirava, non funzionava, non era... perché il rischio è che in questo modo sopravviva solo ciò che funziona, solo ciò che piace, ma quello che piace in quel momento è più, non è detto che sia, diciamo, io non dico la verità perché non so dove stia la verità, però io credo che la verità si componga dalla esistenza di una pluralità di opinioni e quindi la mia preoccupazione come legislatore è capire come fare a garantire la pluralità di opinioni. Poi posso essere d'accordo che bisogna intervenire su tutto ciò che può essere spreco, su tutto ciò che può essere sostegno occulto e quindi capire anche quali sono le forme. Ad esempio sono esistite delle sovvenzioni per far abbassare il costo della carta dei giornali. Mi risulta che anche il fatto ha usufruito di questo tipo di supporto pubblico. Si potrebbe forse pensare di mettere in campo una serie di servizi. Si potrebbe pensare, ma in parte oggi è già così, a legare la possibilità di accedere al finanziamento pubblico a una serie di criteri di qualità nella modalità in cui si lavora dentro quei giornali, nella modalità in cui sono qualificate le competenze di chi ci lavora e quindi anche forme di indipendenza legate alla qualità. Insomma, la domanda di fondo è questa. Se davvero lei è convinto che abolendo tu curi il finanziamento, si ottenga nella libertà, in una specie di magia dell'economia, la pluralità delle informazioni, e traspare la mia convinzione che non sia così, se questo invece non rischi di vedere, grandi o piccole testate, tutte dipendenti di fatto da diversi poteri economici, in alcuni casi sono anche proprio i loro lettori, perché lei ha detto che ci possono comprare solo i nostri lettori, però se io per farmi comprare devo continuare ad assecondare i miei lettori, quando devo dire una cosa scomoda, che ai miei lettori non piace, forse mi faccio qualche dubbio se dirlo o meno. Io vorrei che un giornalista, che un'attestata, possa sentirsi sempre, in qualsiasi momento, libera di dire quello che ritiene sia quella vicenda e di raccontarla come ritiene giusto raccontarla, senza preoccuparsi di chi la compra o di chi gli fa pubblicità o di chi la paga. Grazie, onorevole Rampi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Simonetti. Dottor Travaglio, fino ad ora sono intervenuti l'onorevole Brescia del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Rampi del Partito Democratico, l'onorevole Simonetti, un rappresentante della Lega Nord. Prego. Grazie, Presidente. Ma io avevo chiesto la parola, prima dell'intervento del Dottor Rampi, l'onorevole Rampi, che di fatto condivido, al quale aggiungo una riflessione, che se aboliamo, come è stato abolito, anche il finanziamento pubblico ai partiti, e se la democrazia va di fatto a essere determinata, e da un tipo di informazione che è quella che prospettava l'onorevole Rampi, e il fatto che il partito politico, che poi è colui che riceve il consenso elettorale, va a essere determinato nella sua organizzazione, da un finanziamento privato, che ovviamente un finanziamento privato può essere di qualche magnate, ma io non credo ai magnati, ma vorrei che ci si finisse, poi che gli emendamenti vengano ad essere pilotati in funzione del finanziamento privato che il partito riceve, il partito di governo ovviamente. Quindi una riflessione attenta a questa... di lasciare al libero mercato l'iniziativa democratica, dobbiamo effettuarla. Poi lasciamo perdere, o discutiamo, delle esagerazioni in tutti i campi, ma passare dalle esagerazioni al nulla, io penso che ci sia una via di mezzo, che molto probabilmente è quella della verità, la via di mezzo, che soddisfa le esigenze di chi ha visto nel passato le realtà non certamente idilliache e le preoccupazioni che sono state evidenziate dal relatore Rampi. Grazie, onorevole Simonetti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giordano di SEL. Grazie, Presidente. Intanto una riflessione più generale, perché sennò rischio di stare io in una condizione di discussione surreale. se noi come Parlamento abbiamo votato l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, non ponendoci il tema dell'autonomia della politica, porsi oggi il tema dell'autonomia dell'editoria o dell'iniziativa giornalistica, mi sembra francamente quantomeno contraddittorio. relativamente alla qualità della democrazia di questo Paese, voi sapete che io sono stato contrario al provvedimento che ha abolito o attivato un processo di abolizione, poi vedremo che anche queste cose a mezzo e mezzo sono interessanti. E mi sorprende come mai ci poniamo il problema della qualità della democrazia di questo Paese sempre un pezzo alla volta. Se invece lo facessimo in maniera più organica, probabilmente parleremo della democrazia di questo Paese realmente. Io non ho domande da fare. Condivido molto il fatto che, dal punto di vista dello spunto, ci è stato proposto perché è una verità storica. Cioè il fatto che in questo Paese si siano portate in un modo o nell'altro, dandole o spingendole verso gruppi di potere, anche politico, ed è questo il conflitto di interessi in questo Paese. Poi vediamo se i giornali debbano essere aiutati o meno. È un dato storico che dobbiamo assumere per com'è. e si traduce come suggeriva il nostro ospite, il dottor Travaglio, cioè in quello di spostare o di indurre risorse verso la misura televisiva piuttosto che fissare una semplice regola per il fatto di fermi questo meccanismo di limitazione per andare un po' di risorse a un solo etto. Io penso però che dobbiamo fare un passo in più. Io credo che è un impegno pubblico all'editazione. che sono a lima che trovano con la telecamera che sono analisti di fare. Noi siamo una società che non solo precarizza i lavori intellettuali ma li tiene in una che comincia a fare un'altra barà. Cioè la qualità di quella professione è come uno Stato si pone il tema di spendere risorse bene perché probabilmente il tema che abbiamo di fronte non è come sono state spese fino adesso cioè male cioè in grossa parte nel modo in cui ci è stato rappresentato ma come riconosciamo come riconosciamo tutti in qualche modo. ma se quelle risorse possono essere spese meglio cioè la qualità del sostegno come si qualifica il sostegno pubblico in termini di investimento a un settore delicatissimo come quello dell'editoria e del giornalismo questo è un tema che ci dobbiamo porre. Secondo tema si può scrivere in questo Paese una regola semplice cioè che chi ha interessi diretto e indiretti in politica non può possedere un giornale o il contrario cioè il conflitto di interessi l'ho banalizzato per semplicità è una priorità di questo Parlamento perché se no parliamo di niente cioè noi rischiamo di vedere gli effetti dell'inquinamento ma di non risolverne la causa e l'inquinamento resta. Allora per noi questo è un tema e io sono disposto a lavorare con chiunque voglia superare questa condizione che guardate adesso comincia a riguardare Berlusconi latentemente purtroppo per noi perché i ritardi che abbiamo avuto come politica e anche come centrosinistra così facciamo una più precisa analisi sono stati ritardi colpevoli su questo terreno ora a me interessa meno indagare le cause ma la condizione politica attuale fatto salvo il patto del Nazareno diciamo ci potrebbe permettere in libertà di affrontare una discussione più laica su questo punto che riguarda ripeto e lo dico perché sono d'accordo su molte delle cose io penso che investire in servizi che possano sostenere esperienze editoriali sia un passaggio intelligente poi bisogna capire quali servizi però è una cosa che si può approfondire ma non affrontare il no dovero in questo paese è un errore perché quell'errore inquina tutto il resto e inquina soprattutto una iniziativa meritoria che lo Stato deve ricominciare a fare perché ha smesso di farla e cioè quella di sostenere le attività intellettuali non bisogna smettere bisogna farlo bene che è tutto un altro discorso grazie onorevole Giordano siamo molto confortati come Commissione Cultura sì prima dell'onorevole Gallo abbiamo una richiesta dell'onorevole Dottavio di intervenire grazie Presidente ma io credo che con l'audizione di oggi entriamo nella fase più interessante di questa discussione sulla legge e vorrei prima di fare una domanda fare un piccolo ragionamento perché noi dall'inizio diciamo così stiamo discutendo quale bivio prendere se sostegno all'editoria o appunto abolizione del sostegno permettetemi però di raccontare un aneddoto di 20 secondi non so se tutti sanno perché i quotidiani hanno pagine così grandi o avevano pagine così grandi quando sono nati i primi giornali lo Stato per impedire appunto che ci fosse informazione tassò le pagine dei giornali erano piccole cioè mise una tassa su ogni pagina del giornale cioè nessuno aveva lo Stato non aveva interesse a che ci fosse informazione e quindi il modo per gabbare diciamo così le tasse fu quello di allargare le pagine dei giornali no? è importante questo perché come dire il potere non aveva interesse che ci fossero i giornali e trovò la tassa sulle pagine dei giornali il mondo è cambiato adesso le pagine dei giornali possono tornare ad essere della misura che si vuole e noi siamo a ragionare invece abbiamo ragionato di sostegno nel senso che l'informazione è un bene ecco io la mia domanda che voglio fare è questa cioè dall'intervento ho capito che secondo lei il miglior sostegno sarebbe la normare sostanzialmente cioè mettere dei limiti ho capito bene cioè voglio dire il sostegno che lei pensa alla diffusione dell'informazione è mettere dei limiti a qualcuno perché come dire lasciare in realtà completamente al mercato secondo me non è una soluzione voglio dire in qualunque settore specialmente quei settori che vengono considerati servizi essenziali e per quanto mi riguarda l'informazione è un servizio essenziale lasciarlo completamente il mercato significa condizionarla ancora in modo più forte ecco ora volevo sapere se qual era il suo pensiero ma soprattutto chiederle se aveva notizia informazione rispetto a quello che succede negli altri paesi cioè se sul conflitto degli interessi di interessi noi siamo come dire più scarsi degli altri paesi gli altri paesi sul sostegno pubblico l'editoria che cosa fanno? grazie onorevole Dottavio ho due prenotazioni l'onorevole Gallo e l'onorevole Valente io devo chiedervi di essere rapidi per consentire al nostro ospite di rispondere anche perché abbiamo poi una successione oggi lo sapete purtroppo complessa onorevole Gallo prego grazie presidente io volevo ricordare che diciamo anche cioè è vero noi stiamo affrontando questa proposta di legge che è l'abolizione del finanziamento pubblico e diciamo anche un po' una trasformazione sotto una trasformazione anche del finanziamento ma allo stesso tempo siamo quelli che hanno portato in aula la proposta di legge sul conflitto di interessi e dopo purtroppo una farsa a cui abbiamo assistito è stata riportata in commissione nuovamente per non poterla discutere e votare quindi diciamo sappiamo bene che il tema è complesso e vasto però purtroppo questo tema non si riesce a affrontare completamente in questo Parlamento e diciamo mi stupisce un po' la preoccupazione della deriva verso il mercato quando poi e sussiste oggi tranquillamente sulle diciamo per le editorie non possiamo negarla anzi diciamo bene ha fatto dottor Travagli a chiamarlo finanziamento occulto indiretto perché quando non è neanche la pubblicità ma è una sorta di balzello che le imprese devono pagare per pubblicare il loro bando di gara sul giornale quello diventa un finanziamento occulto a tutti i livelli io ricordo che l'AICE l'associazione dei costruttori che è stata nella precedente audizione in commissione che certamente non è un amico storico del Movimento 5 Stelle ha ricordato che questa tassa chiamiamola così è odiosa e ha ricordato per esempio che in una commessa in una commessa hanno cacciato 60.000 euro finanziato con 60.000 euro la pubblicazione di un bando sull'inceneritore sui giornali cosa avrà detto quel giornale sugli inceneritori mi domando forse già esiste questo tipo di distorsione del mercato se poi andiamo a affrontare i proprietari dei vari giornali l'SPA andando alle domande esperienze estere che riescono a a fare informazione libera e plurale che non hanno finanziamenti pubblici ho letto che sul fatto quotidiano alcune esperienze riportate se anche Travaglio ne ha conoscenze vuole riportare qualche esempio e poi sull'aspetto della norma che sempre nella proposta di legge volevo sapere sempre il parere di trasformazione del finanziamento in start up editoriali costituiti da giovani in Firenze che però dovrebbe essere un finanziamento non continuativo ma iniziale per la start up quindi a dimostrazione che anche a Movimento 5 Stelle sta a cuore più il giornalista che finora è stato sfruttato che diciamo di per sé chi comanda i fili chi muove i fili all'interno di un'impresa editoriale grazie grazie onorevole Gallo chiudiamo allora con l'onorevole Valente 5 Stelle capogruppo del Movimento 5 Stelle grazie presidente io intervengo perché si è stimolato anche da molti interventi fatti dai miei colleghi e voglio portare all'attenzione un elemento in più che potrebbe essere di discussione sia per tutta la commissione ma anche per il dottor Travaglio qua presente ed è quello di un'indagine antitrust condotta nel 2007 proprio sull'editoria in cui appunto leggendo questa lunga relazione si denuncia soprattutto come il sistema in Italia sia in regime di oligopolio quindi bisognerebbe intervenire perché in sostanza come avviene in tanti settori ormai in Italia comandano i grandi comandano in pochi e ai piccoli rimane ben poco quindi è un primo elemento di riflessione importantissimo perché poi spesso le persone che fanno editoria sono le stesse che poi sono legate ai partiti quindi un primo argomento di riflessione è questo il secondo quello più importante che è venuto fuori da molti interventi soprattutto dall'onorevole Rampi che si preoccupava un po' delle dipendenze che una testata potrebbe avere dai finanziamenti dello Stato e leggo un passaggio che si evidenzia in questa relazione in cui si dice che merita domandarsi se l'assenza di un limite temporale al periodo di assegnazione del contributo non possa determinare la sistematica dipendenza di alcune testate dal sostegno pubblico riducendo gli stimoli a operare tutto quanto possibile per affrancarsi e ottenere una piena autonomia perché chiedono di fare questa riflessione perché proprio la legge 416 dell'81 si proponeva di finanziare solo per 5 anni una testata e poi lasciare diciamo le testate in totale autonomia e questo era un punto importante perché si volevano stimolare le start up primi 5 anni quindi start up si avviava la testata e poi la testata doveva andare in totale autonomia questo è importantissimo e voglio ricordare che la via di mezzo che citava il mio collega Simonetti nel caso della proposta di legge del Movimento 5 Stelle c'è perché andiamo a togliere i finanziamenti ad abolirli veramente non come il finanziamento pubblico ai partiti che è una finta abolizione qua li aboliamo veramente e li andiamo a inserire nel finanziamento di start up di giovani giornalisti questo è una soluzione per arrivare all'obiettivo finale che è il pluralismo dell'informazione grazie grazie onorevole Valente dottor Travaglio sì io vorrei dire un paio di cose prima di entrare telegraficamente nelle risposte la prima è a me è capitato di collaborare in un periodo in cui ero disoccupato con un giornale direttamente sovvenzionato con il finanziamento dell'editoria di partito e cioè l'unità in un periodo in cui però l'unità aveva smesso di essere l'organo del partito all'epoca di esse credo si chiamasse ed era dopo la chiusura rinata nel 2001 come giornale indipendente rimesso in sesto da un gruppo di editori volonterosi che però diciamo per aiutarli e invogliarli a investire nella risurrezione di un giornale morto esperienza tra l'altro unica in Europa non esistono giornali che muoiono chiudono e poi riaprono di solito rimuoiono all'istante invece Colombo e Padellaro proprio facendone un giornale che non era più un giornale di partito infatti chiamarono me a collaborare che non c'entrava assolutamente niente con quel partito riuscirono a fare un giornale che fino a quando l'hanno diretto loro è andato molto bene io mi ricordo che a un certo punto quegli editori che l'avevano rieditato furono sostituiti in qualche modo da un editore unico che era Renato Soru il quale appena arrivato disse io alla scadenza del termine del finanziamento perché credo che fosse un impegno quinquennale adesso non ricordo bene com'era ma insomma so che preso l'impegno poi durava per cinque anni e lui disse alla scadenza io rinuncerò a questo finanziamento pubblico dopodiché non lo fece e continuò a prenderlo e lo fece rinnovare quindi ho fatto esperienza sia in un giornale che prendeva i soldi dell'editoria di partito ma non era un giornale di partito e poi ho fatto l'esperienza esattamente opposta che è quella del giornale che abbiamo fondato e che abbiamo deciso di imperniare proprio intorno a questo concetto del giornale che dipende soltanto dai suoi lettori e dai suoi abbonati beh io posso garantire che quando un giornale prende denaro pubblico quella spada di Damoc e quel condizionamento quella specie di ricattuccio più o meno detto e non detto lo avvertono tutti io ricordo che pur non essendo quello un giornale di partito c'erano continue lamentele da parte del partito che a un certo punto visto che il giornale andava bene e non aveva richiuso come forse qualcuno sperava pretendevano proprio in quanto vettori di quel finanziamento di rimetterci le mani sopra e di ottenere cose che con il giornalismo e con la libertà di informazione avevano poco a che fare e non essendoci riusciti hanno cacciato prima Furio Colombo e poi Antonio Padellaro dalla direzione per riprendersi il loro giocattolino e fargli fare poi la fine che purtroppo ha fatto recentemente riportandolo proprio ad essere un giornale di partito i giornali di partito non sono dei giornali i giornali di partito non interessano a nessuno io capisco che i partiti abbiano necessità di comunicare le loro iniziative le loro proposte le loro attività ma queste esigenze di comunicazione per fortuna oggi nel 2014 possono essere soddisfatte con costi molto ridotti dall'apertura di un sito non si vede per quale motivo tenere in piedi dei carrozzoni addetti alla pubblicazione dei discorsi dei leader e dei ministri e delle proposte di legge il giornalismo è una cosa diversa dalla comunicazione politica l'esperienza del fatto quotidiano io non voglio vantarla nel senso che siamo soltanto fortunati siamo nati dopo e quindi siamo riusciti a mettere in piedi un giornale dimensionato ai parametri di un giornale del 2014 che non è più un giornale ministero come erano i giornali nati in decenni passati e quindi oggi noi non abbiamo fortunatamente il problema che hanno i grandi giornali di liberarsi progressivamente di 70-80 persone all'anno con prepensionamenti scivoli ogni sorta di cose anche lì poi in parte caricate sulla collettività perché gli stati di crisi tutto quello che sappiamo sui grandi gruppi è un'altra forma diciamo di aiuto di stato nei confronti dei grandi editori noi essendo nati dopo abbiamo deciso di fare il passo un po' più corto della gamba anziché assumere 300 persone siamo partiti in 15 adesso siamo una sessantina ma di più non possiamo non possiamo allargarci però posso assicurare che l'altra grande fortuna che abbiamo avuto è stata quella di dire subito che non avremmo voluto soldi pubblici io ricordo anche per avere collaborato con giornali che non prendevano il finanziamento alla stampa di partito perché non erano giornali di partito ma giornali che prendevano semplicemente i contributi pubblici cioè tutti i grandi gruppi editoriali compresi e beh insomma avevano sempre un occhio di riguardo nei confronti del sottosegretario alla presidenza del consiglio addetto all'emolumento e nei confronti del ministro delle poste telecomunicazioni o come diavolo si chiama quel ministero adesso per cui ogni tanto capitava che su grandi giornali ci fossero interviste di cui non si capiva il motivo al ministro oppure al sottosegretario alla presidenza del consiglio che materialmente alla fine di ogni anno era chiamato a confermare oppure a tagliare oppure ad aumentare le erogazioni alla stampa questa è una piccola cosa naturalmente Gianni Letta è l'uomo più intoccabile della stampa italiana soprattutto quando era sottosegretario alla presidenza del consiglio e si occupava di questa faccenda esattamente come oggi diciamo i giornali guardano con un occhio di riguardo al sottosegretario Lotti proprio perché credo che sia lui a occuparsi di questo tema e così è stato in tutti i governi di centro-destra e di centro-sinistra quindi questo è un piccolo esempio per dire che il finanziamento quando è usato in maniera così ricattatoria come è stato usato in questi anni con giornali la cui sopravvivenza l'anno successivo dipendeva in parte piccola o grande dalla conferma di certe erogazioni oppure dall'abrogazione di certe erogazioni stavano lì col cappello in mano fuori da Palazzo Chigi ad aspettare che arrivasse il regalino natalì il cestino di Natale è uno spettacolo abbastanza bilente per un'azienda che diciamo dovrebbe reggersi sull'indipendenza dei propri giornalisti e dei propri mezzi veniva fatto quindi non è che il fatto quotidiano è più bravo degli altri siamo stati fortunati a nascere in un'epoca nella quale c'era una crisi pazzesca della carta stampata e quindi ci siamo dimensionati in piccolo ben sapendo che in grande saremmo scomparsi ma però è un'esperienza che mi fa dire che se uno ne può fare a meno degli aiuti esterni soprattutto se in qualche modo poi richiedono una benevolenza nei confronti del soggetto politico che in quel momento ha il rubinetto in mano e lo può aprire o lo può chiudere diciamo che il giornale viene meglio e la vita nel giornale è migliore la professionalità aumenta e anche i lettori se ne accorgono insomma è più facile essere indipendenti quando non si deve chiedere a chi ha il rubinetto in mano di aprirlo un po' di più e di non chiuderlo un po' di meno poi certo sappiamo benissimo che poi la gran parte dell'indipendenza dipende dal giornalista dal direttore dal rispetto che ha l'editore nei confronti dell'indipendenza dei suoi dipendenti e quello naturalmente è il fattore umano dal quale non si può prescindere ma che non può essere normato ovviamente veniva fatto dall'onorevole Rampi un riferimento alla possibile dipendenza o condizionamento della pubblicità certamente è indiscutibile che la pubblicità è un condizionamento la pubblicità è l'altro introito oltre alle vendite e agli abbonamenti c'è però anche quello diciamo la capacità di non farsi condizionare oppure l'incapacità di non farsi condizionare dalla pubblicità anche quello dipende dall'editore dal direttore e dai giornalisti però noi abbiamo poca pubblicità pochissima non so a quanto ammonti il 10% e devo dire che va bene poi non è questa la sede ma insomma se uno va a vedere come si muove il mercato pubblicitario si rende perfettamente conto che chiamarlo mercato è una barzelletta non è un mercato è un marchettificio dove si distribuiscono le pubblicità ai giornali che fanno comodo e si negano le pubblicità ai giornali che non fanno comodo secondo me l'unico criterio in base al quale un'azienda dovrebbe decidere dove fare la sua pubblicità e dove non farla è io faccio pubblicità in un posto dove c'è tanta gente e non faccio la pubblicità nel deserto perché non c'è nessuno che la vede noi abbiamo esempi di giornali che vendono 2000 copie e che hanno il decupolo della pubblicità che hanno dei giornali che ne vendono 50 o 100 mila quindi questa è la dimostrazione che essendo le aziende cappeggiate da persone che comunque sanno far di conto per quale motivo scelgano un giornale di 2000 copie anziché un giornale che ne vende 10 o 20 o 40 volte tante è evidente che la ragione è la marchetta non c'è altro motivo per giustificare questa non solo disparità di trattamento ma questo autolesionismo evidente da parte degli inserzionisti dei concessionari eccetera però posso raccontare un piccolo aneddoto anch'io noi eravamo appena nati da qualche mese e partì una campagna pubblicitaria a tappeto quindi su tutti i giornali da parte dell'Enel che doveva piazzare un prodotto finanziario in borsa che si chiamava Enel Power dato che diciamo somigliava molto a un altro prodotto finanziario che era stato piazzato due anni prima in borsa e che aveva avuto esiti devastanti per chi aveva avuto la malaugurata idea di investirci i propri soldi il nostro commentatore di questioni finanziari uno dei nostri commentatori è Giorgio Meletti scrisse un pezzettino piccolo dove avvertiva i consumatori delle possibili controindicazioni di quell'investimento anche noi avevamo anche l'Enel aveva comprato alcune pagine del fatto quotidiano per promuovere quell'iniziativa l'ufficio marketing credo dell'Enel quando uscì quel pezzettino che avvertiva i consumatori che diciamo l'investimento non era così sicuro e poteva avere dei rischi ci scrisse diciamo imprudentemente un sms a una persona della nostra amministrazione per dire se avete deciso di perdere la pubblicità dell'Enel avete scelto il sistema migliore e cioè criticare il prodotto per cui noi facciamo pubblicità sul vostro giornale noi il giorno dopo quella cosa lì invece di sistemarla privatamente chiedendo scusa e dicendo ah ma quel Meletti è un matto non ce ne eravamo accorti abbiamo pubblicato in prima pagina l'sms dell'ufficio marketing dell'Enel per far capire a questi signori e a tutti gli altri che la pubblicità può comprare quella pagina pubblicitare del nostro giornale ma non può comprare tutte le altre pagine del giornale che c'è una certa differenza fra le pagine pubblicitarie e le pagine di informazione dopodiché naturalmente per qualche anno non abbiamo più avuto pubblicità dall'Enel dopodiché però poi alla fine sono ritornati probabilmente avendo capito che con noi certi discorsi non attaccano magari attaccano da qualche altra parte dove compri 10 pagine e poi godi anche di buona stampa e questo questo però per dire che il fatto che ci abbiano mandato imprudentemente quell'sms dimostra che con molti giornali evidentemente sono abituati a non essere più criticati nel momento in cui comprano pagine quindi diciamo che anche lì il fattore umano è fondamentale dipende da come uno reagisce al primo tentativo ammiccante come quello che abbiamo ricevuto noi quello secondo me è il giusto rapporto che si deve avere con la pubblicità tenendo conto che comunque la pubblicità è la cosa meno occulta che ci sia perché tutti aprendo il giornale vedono esattamente chi sono gli inserzionisti pubblicitari è chiaro che se il nostro giornale è contro faccio un caso dato che ci sono i 5 stelle che propongono la legge il nostro giornale parte lancia in resta contro gli inceneritori e poi comincia a pubblicare pagine pubblicitarie di aziende che costruiscono inceneritori diventa favorevole beh dato che il lettore non è completamente stupido diciamo che la reputazione del nostro giornale va a farsi benedire e quindi ne risente anche dal punto di vista delle vendite perché chi si fiderà mai più di un giornale che cambia la sua linea a seconda di chi compra le pagine pubblicitarie quindi c'è il modo di mantenere un rapporto normale diciamo un po' anche virile nei confronti dell'inserzionista pubblicitario anche se certamente questo diventa sempre più difficile a mano a mano che si aggrava e si acquisce la crisi dei giornali e la crisi delle vendite dei giornali e la difficoltà di vedere trasferire la pubblicità dalla carta al web Travaglio io purtroppo devo chiederle io praticamente ho quasi finito l'informazione è un servizio un prodotto secondo me entrambe le cose però dietro ogni giornale c'è un'azienda e le aziende devono stare in piedi da sole io non sono un liberista fottuto io sono liberale ma non liberista penso che ci debbano essere delle regole sicuramente contro le concentrazioni contro i conflitti di interessi contro gli affollamenti pubblicitari ma non penso che le aziende possano essere mantenute dallo Stato per fare un prodotto che non ha mercato cioè che non ha domanda un giornale senza lettori non ha ragione di esistere una emittente senza telespettatori o ascoltatori non ha ragione di esistere un minimo di rispetto per i cittadini soprattutto in tempo di crisi secondo me ci vuole e soprattutto quando parliamo di carta stampata che voglio dire chiunque vada in edicola lo sa che se uno vuole mettere in piedi un giornale lo può fare a differenza di uno che vuole mettere in piedi la televisione o la radio che deve chiedere il permesso allo Stato per prendersi il suo pezzo di etere il giornale non richiede concessioni pubbliche il giornale lo può fare chiunque abbia un'idea e abbia naturalmente dei lettori attuali o futuri il rischio che arrivino solo finanziamenti privati è un rischio che c'è fino a un certo punto perché poi ripeto nessun privato finanzia un giornale solo ed esclusivamente per perdere quindi di solito il privato finanzia il giornale se ha un'aspettativa di guadagno e l'aspettativa di guadagno non si può avere soltanto attirando pubblicità un minimo di lettori un giornale ce lo deve avere è chiaro che stiamo parlando di un sistema che non conosca i conflitti di interessi che conosce il nostro sistema perché poi l'altro grande condizionamento quello si evitabile rappresentato dagli editori impuri stiamo andando fuori tema ma dato che se ne è parlato è chiaro che il giornale di un palazzinaro farà le campagne sui piani regolatori come diceva ma mica per la pubblicità che fa perché è il padrone del giornale quanti giornali italiani sono in mani i palazzinari per non parlare di quanti sono in mani i banchieri di quanti sono in mani i costruttori di auto cose di questo genere quindi è ovvio che stiamo parlando di un mercato che secondo me andrebbe normato proprio per evitare questi condizionamenti e quelli non sono dipendenti dal fattore umano quindi quelli sono eliminabili con legislazioni sul modello di legislazioni straniere che non consentono certamente a chi ha quei conflitti di interessi di mettere le mani sull'editoria poi il sostegno pubblico mi si chiedeva ma lei lascerebbe totalmente libero o darebbe dei sostegni cosa succede negli altri paesi secondo me cosa succede negli altri paesi io so per esempio il caso di Media Park perché stiamo cercando di fare un apparentamento visto che è un sito francese che sta andando benissimo ha centomila abbonamenti da quello che mi risulta ed è totalmente autofinanziato da un gruppo di giornalisti ed editori puri ma sì dobbiamo chiudere però voglio dire secondo me vi converrebbe fare uno studio comparato di quello che succede negli altri paesi a questo proposito per quanto mi riguarda fino a quando non saranno risolti tutte le questioni che abbiamo detto se proprio si avverte l'esigenza di sostenere l'editoria che almeno sia un sostegno non selettivo e non col cappello in mano ma non lo so si parlava di sconti sulle tariffe di sconti sulle poste eccetera almeno quelli vanno esattamente uguale per tutti e almeno non si fanno più gli scandali del passato dove appunto chi chiedeva di più o serviva di più o teneva di più grazie dottor Travaglio chiedo ai membri della commissione se vogliono poi proseguire l'incontro con lei di rivolgersi direttamente al dottor Travaglio anche per poter avere le risposte alle domande che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di portare avanti la ringrazio do il benvenuto all'onorevole del Rio e riprendiamo con i nostri lavori di rivolgersi Grazie a tutti